La 14 tra Agraria Samba in maglia blu scura che attacca da destra verso sinistra, invece tra queste vere calce maglia Celestina e pantalonsini Granata che attacca da sinistra verso destra. Tiro, la palla che entra dentro, il gol del numero 10 Filippo Cambrea dopo due minuti e mezzo, Trassevere in vantaggio e poi il gol del pareggio subito dopo pochi secondi, 1-1 tra Agraria Samba e Trassevere Calcio, Simone e Flamini. Puggini, fa palla a sinistra per il numero 3 Caradozzolo e Menzetti che la gira in avanti. Poi trovano l'impostato indietro con Alessio Buffoni, ottimo il numero 2 Caradozzolo. Filippo Felici e fa il tira! Il gol del numero 6, il capitano Leonardo Giordano che la tira da casa sua. Buffoni la mette in mezzo e il gol fa la scivolata per festeggiare di Santiago Camilli. Tutto in pari da qui, 43 sul cronometro, 2-2 tra Agraria Samba e Trassevere Calcio. con la stessa finale che è il suo capo della categoria 2014. C'è il pubblico rischio del direttore di gara. Quindi finisce il primo tempo con Agraria e Trassevere. Quindi sono penso 5-2. Inizia quindi la seconda frazione tra Agraria Samba e Trassevere. Due a due attività del primo tempo. Trassevere che attacca da destra verso sinistra. Agraria Samba che attacca da sinistra verso destra. Agraria Samba che ci prova. Poi si accomano all'immaggio adesso in questa laterale. Palla verso Di Luca. Poi girarsi il tiro. Palla G-Man out. Cerca di ripartire la Agraria Samba. Partita un po' bloccata. Due a due. Mangurato nel primo tempo. Poi qualche azione. Flamini adesso ci prova e la tiro. La parata. Possa di Fuggini. Possa il rebue. Cerca di... Grazie a me! Dio Luca non se la fa. Quindi ancora... Il tiro di Doria. La parata. Possa di Fuggini. La pagna, il tasto del campo. Quando è stato Inizio il marchio per il vesicchio. Procato. Come taken? Possa il rebue e il fuggiero. Sì, la testa, guarda. Dai, De Bruyne. Si regi l'altà. La mini in lo tiro. Palla che pallato. Occhio, occhio là Simone! Può metterla in mezzo, De Felici. Andiamo Simo! Non riesce però ad avere alcun effetto questo attacco. Ancora Cambrea per gli ultimi scappoli di partita. C'è il triplice bischio. Calci di rigore. Buffone in battuta. Il tiro. E la rete. 1-0 Agraria. Adesso Cambrea contro Dagnano. La rincorsa di Cambrea. E il gol. 1-1. Devo mettere finito con il 2-2. Flamini tira. C'è la parata di Cugini. Numero 23 in battuta. Leonardo Caffelli contro Dagnano. Il tiro. Parata di Angelo Dagnano. Adesso Andrea Menzitti contro Tommaso Cugini. Il tiro. Altra parata di Cugini. Un po' in battuta. In accordo Dagnano. E la golla. La stevere che vince. Lenzo Aigaspo. Categoria 2014.